mano destra a corno francese si usa quando il grado va da sua eccellenza in voi questa fu la mia prima uscita come donna di vita roteando la borsetta nell'insieme ero perfetta scusate signore un'intervista per la radio lei è d'accordo a costituirsi in sindacato ma che stiamo a coppenaghe in questa è l'italia ognuno per sé mignotte per tutti grazie che te serve un pappone eh che dici un pappeto grazie e lei che ne pensa del problema delle prostitute no commenta e lei non vedi questo ma che te credi che stiamo a via teulata e cerca l'anna 50.000 ti chiedono quanto ma soldi non hanno è un vizio abituale dei nostri maschioni si guardano in faccia e poi se ne vanno dietro il cespuglio a fare i guardoni a volte a tirare l'attenzione di un uomo non è affatto facile non a tutti piace andare con le prostitute beh certo non a tutti diciamo piace la carne in tal caso però è la prostituta che stimola l'innato senso del gallismo maschile sì ma come che cosa essere questo monumento qui essere monumento al culo italiano cosa essere culo ma come non ce lo sai ma che c'è venita a fare l'italia ma guarda che me deve capata ma guarda che me deve capata bello elegante ma se io lo pecco scusami tanto ma ho scopato o non ho scopato perché c'ho una confusione la parte che cazzo e fa la testa ah porca miseria siamo arrivati tardi e a quanto arriveremo di questo passo guarda quanti macchina c'ho sotto ci sta una fila che non finisce mai Eh, le ho contate, ce ne sono almeno dieci prima di noi Tommaggini, eh Tocca a me, tocca a me Sì, sì, va, va Oggi voglio provare pure io È la fine del mondo Sai che questa notte a notte se ne sta in convento e poi del giorno